Secondo i dati raccolti da Inel sono state 232.000, le donne che nel corso del 2011 hanno subito un infortunio sul lavoro, di cui 90 con esito mortale, su circa 9.035.000 occupate. La provincia di Rimini si delinea tra le più basse in regione per numero di incidenti femminili sul lavoro. Dal 2007 sono stati denunciati ogni anno circa 2.700 infortuni, fino a raggiungere nel 2010 la soglia di 2.842. Il numero di incidenti è diminuito nel 2011, ma tale dato non deve far abbassare la guardia davanti a questo fenomeno. Per quanto riguarda gli infortuni femminili, sono in calo come un po' tutti gli infortuni. L'infortunio femminile ha alcune caratteristiche più stabili, per esempio una grossissima percentuale dell'infortunio femminile avviene in itinere. Ecco, quello lì è rimasto piuttosto statico, quindi hanno meno infortuni gravi, però hanno una percentuale di queste infortuni in itinere molto elevate. Molto ovviamente ci sono anche dinamiche, per esempio la fretta, portare i bambini all'asilo, poi correre a lavorare. Con l'obiettivo di offrire opportunità concrete di diffondere in modo efficace la sicurezza sul lavoro, l'ANMIL ha presentato i risultati della sperimentazione di un kit realizzato appositamente per il progetto Omero, la forza della narrazione. Così come Omero è il narratore di storie, l'ANMIL con questo progetto si è posto all'obiettivo di farsi portavoce delle storie di migliaia di lavoratrici. Attraverso le testimonianze di vita di alcune donne che sulle loro pelle hanno vissuto un infortunio sul lavoro, ANMIL ha come scopo quello di offrire una fonte di informazione per aprire un barco sulle relazioni, la quotidianità, il clima organizzativo nei vari contesti di lavoro. Il kit informativo che ha ottenuto risultati positivi è stato prodotto in 8.000 copie e sarà messo a disposizione in modo gratuito ad aziende e responsabili di sicurezza.